con Martino Iacchetti nel nostro fuori onda videotop per chiacchare un po' più in tranquillità adesso la telecamera è lì e la dimentichiamo finora non ho ad esempio respirato per fare quello che ha il fisico ma sai noi falsi grassi come dici tu vedo che anche tu sei del team il nero se ne dice un casino ho dovuto anche metterne meno vedi non ho le mani perché non rimanevo nell'inquadratura è una delle passioni non è solo la musica ma è anche il cibo quindi bravo vedo che il resto sai come un modello chiacchiera da mano cosa ti è rimasto oggi che noi faccio una cena con amici un momento di svago se non hai queste soddisfazioni ma quando mai assolutamente quello è il sapore e il gusto vero della vita ma tu come sei messo sport? a sport? da lunedì guarda l'unico sport che faccio al momento è andare in giro in bicicletta a Milano perché vivo lì un po' sì la cosa buona è che è in pianura tutto in pianura ci sono certe salitine su qualche ponticello poi la mia è senza il cambio quindi ovviamente bici da città per il resto gioco a calcetto appena posso perché è una cosa che mi diverte con gli amici però insomma non vuol dire perdere chissà quanto bisogna stare attenti a quello che si mangia uno può anche fare tutto lo sport del mondo bravo perché non è il problema del perdere quanto si recupera quando si mette perché dopo se uno fa calcetto poi cenona esatto io faccio una dieta che ne so di due mesi perdo anche dieci chili dico ah grande quanto ci rimetto a rimetterli va dai cinque ai sei giorni cioè se decide di mangiare come si deve di bermi del vino buono è fatta senza di incontrare qualche amico giusto è un attimo sei di una località che oltretutto è patria di un sacco di personaggi del cabaret dello spettacolo assolutamente sì che cosa c'è a Luino? che aria c'è? cosa mangiai? questa è una domanda interessante perché mi sono sempre chiesto ma perché lì c'è questa concentrazione? ma io a Luino in realtà cioè sembra che ci sia chissà cosa a Luino c'è il lago e questo già è tanto c'è il lago c'è uno scorcio straordinario sul lago io tra l'altro abito un po' in una zona insomma un po' rialzata ok quindi panorama spettacolare panorama straordinario ma io sono affezionato a tutto di Luino e di tutti i paesi vicini quindi Maccagno la Val Veddasca la Val Cuvia sono posti in cui io sono cresciuto sotto tutti i punti di vista in cui ho vissuto tutte le mie prime esperienze eccetera eccetera è vero a Luino a Luino succede tanto c'è stato Piero Chiara c'è stato Vittorio Sereni non a Luino Luino ma nella zona dalla zona vengono Dario Fo Angelo Branduardi Renato Pozzetto Francesco Saldi quindi mio padre stesso non è nato a Luino è vero è nato in provincia di Cremona a Castelleone però è da lì che poi è venuto quindi infatti se rimaneva a Cremona faceva il farmacista per dire può essere può essere tra l'altro ha dovuto avere fuori certo ma secondo me sai è una città molto predisposta all'arte nel senso che se cresci in questo ambito in quest'ambiente qua l'ispirazione si moltiplica secondo me è un luogo adattissimo a chi vuole fare cose a scriverle di per sé a chi vuole scrivere a chi vuole far sapere qualcosa alla gente c'è un'aria pulita c'è un ambiente se vuoi anche molto aperto nonostante il lago non sia l'apertura del mare ma il lago è un po' chiudo però io lo vedo sempre come un ambiente molto aperto e quindi la cosa che dispiace è che questa apertura questa apertura deve poi ovviamente spostarsi verso centri più più grandi ovviamente l'uino purtroppo a un certo punto ti blocca ti ferma e dice io più di così non ti posso dare ma non è perché non voglia la città dartelo secondo me è un po' la mentalità che dovrebbe essere incanalata verso un'apertura più grande incentivata perché perché alcune cose che si fanno a Milano si potrebbero benissimo fare anche a Luino e verrebbero anche meglio e penso che il problema grosso non sia ahimè solo di Luino ma in tante altre zone dove per forza di cose eh ma qui poi non funziona eh ma se non sei a Milano devi andare devi andare no no ma succede in tutte un po' queste zone qua io parlo di Luino come diciamo adesso culla di artisti ma non è solo Luino quanti artisti vengono da paesi sconosciuti però lì indubbiamente c'è qualche l'aria qualcosa c'è qualcosa il clima aiuta infatti ho fatto anche nel mio prossimo nel mio disco quando uscirà ci sarà una canzone dedicata a Luino quindi magari ne verremo a parlare ecco scopriamo la ricetta esatto ma quello che tu immaginavi da ragazzo era per forza di cose questo o c'è stato un aiuto il fatto di avere tuo padre in questo ambiente aiuto non che ti aiutare ma come indirizzo certo ma guarda ti dirò io ho da sempre più o meno voluto fare questo lavoro perché in realtà ritengo che sia la cosa che so fare meglio o comunque sia ritengo di non saper fare bene nessun'altra cosa quindi io penso di dover stare in questo mondo qua la meno peggio potrei cavarmela magari facendo delle cose spero proprio di sì comunque al di là di tutto non sono ovviamente sicuro di riuscire a farlo a farcela a fare questo lavoro quindi ci sto provando e adesso sono nel momento in cui ci sto credendo di più forse perché cominciano a uscire le prime cose importanti ma io non sono mai stato spinto a fare queste cose né da mia madre né da mio padre insomma né dalle persone più vicine tutti hanno sempre un po' visto una predisposizione no quasi da DNA dentro di me a fare questa cosa ma io per primo me ne sono reso conto quando facevo gli spettacoli che ne so al liceo ho dei ricordi facevamo dei musical magari non teatralmente e drammaturgicamente perfetti ma era un divertimento straordinario ed erano cose che io ricorderò sempre con grande passione e mi è sempre piaciuto sognare di diventare un cantante un attore oppure fare il teatro canzone oppure stare in teatro e cantare ma non sono mai stato spinto certo poi è arrivato un punto in cui gli sono andato a chiedere gli ho detto ma secondo te e lui mi ha sempre detto che c'ero quindi se lui mi avesse detto non ci sei io probabilmente avrei smesso subito ma sia lui che mia mamma anche che è una persona che mi ha regalato tantissimo e che segue tantissimo il teatro il cinema le arti in generale è una molto esperta di queste cose ma anche molto esperta della vita mi ha sempre detto se c'è un lavoro che devi fare è questo allora io sulla spinta loro ho deciso di di sognare veramente perché io per primo ritengo di poterlo fare perché tante volte funziona il contrario chi è in un ambiente stai alla larga lascia stare cerchi di fare desistere il figlio di percorrere i passi da questo punto di vista ho avuto soltanto delle grandi rassicurazioni non mi hanno mai tenuto lontano mi hanno sempre detto fai quello che ti rende felice ma sia mio padre che ci ha lavorato dentro questo mondo per una vita sia mia mamma che comunque in questo mondo c'è stata essendo sposata con mio padre quindi lo ha vissuto sotto altri punti di vista magari mi hanno sempre detto mi hanno sempre detto queste sono le cose cui devi stare attento stai attento perché questo mondo è un mondo non è un mondo pulito diciamolo non può essere un mondo pulito questo mondo ma come come il mondo in generale non è pulito tutti gli ambienti mi hanno sempre appoggiato ma con la postilla attenzione a certe cose quindi io da questo punto di vista sono fortunato ad aver avuto una famiglia che ad avere una famiglia che mi appoggia alla grande in tutti i sensi bacchetta magica dove ti vedresti proprio che dici arca cane lì è il mio posto da riuscire ad arrivare bah guarda dove mi vedrei magari una delle cose in cui mi vorrei tanto tantissimo vedere è un concerto mio in un club di New York a New York è pieno di club in cui sai anche cento persone sono dentro tutte attaccate così però ti ascoltano come se non l'avessero mai ascoltato nessun altro quindi io non voglio il Madison Square Garden non voglio il San Siro mi interesserebbe andare in America e fare un concerto in uno di questi posti o magari una piccola tournée mi vedo lì e poi sarò smielato ma questa cosa la voglio proprio dire una delle l'unica la prima cosa in cui mi voglio vedere nel futuro è con la persona con cui voglio stare adesso e con una famiglia questa è la prima primissima cosa poi il lavoro mi è dopo questo ti fa grande onore perché sicuramente per carità le soddisfazioni che dà il lavoro sono impagabili e tutto però poi se uno è appagato nella vita è tutto a scendere infatti quindi io prima di tutto mi voglio vedere lì poi chiaramente con un lavoro che possa mantenermi che possa supportare questo sogno mi sembra giusto mi sembra giusto noi ti facciamo un grosso bocca al lupo grazie e speriamo di vederci presto è stato un piacere parlare con voi davvero grazie a te